Grazie Presidente, sulla questione della consulta credo di essere intervenuto compiutamente già in altra assemblea, sapete esattamente come la pensiamo e riteniamo anche noi che quest'organo sia inutile, tanto più che ora se ne sono anche decurtate risorse, quindi quelle che in passato si sono spese profusamente. Noi non intendiamo partecipare alla nomina dei membri di questa consulta e quindi anche noi non parteciperemo al voto e usciremo dall'aula. Grazie